Gianmarco Cecconi, ex sindaco di Petriano, alla sua terza esperienza letteraria, terza pubblicazione che questa volta è un romanzo storico. Carletto di Petriano, innanzitutto chi era? Allora, Carletto di Petriano è stato un personaggio storico che è vissuto nel 1502. La storia che ho voluto fare, il romanzo storico, nasce proprio da un'esperienza bibliografica. Io avevo avuto a che fare con Carletto di Petriano perché mi sono imbattuto nella lettura di un seminario del 1788 di l'arciprete Lazzari che parlava all'Università di Urbino, ha elencato una serie di nomi di virus illustribus della provincia di Pesaro e tra questi virus illustribus ha citato anche questo Carletto di Petriano. 1502, Carletto di Petriano mette insieme un esercito di civili e rimanda indietro Cesare Borgia che vuole conquistare il Ducato di Urbino. E questa è la storia da cui parte il mio romanzo storico. È una ricerca lunga, molti anni, che purtroppo ad un certo punto è franata perché le notizie su Carletto di Petriano non erano così tante come quelle che io mi aspettavo quando ho iniziato la ricerca. Per cui a un certo punto sono arrivato ad un bivio o smettere la ricerca oppure tentare in un altro modo di far conoscere ai cittadini di Petriano e non solo chi era Carletto di Petriano e quindi da qui nasce l'idea di un romanzo storico. E quindi nel romanzo che io ho scritto c'è tutta la storia di Carletto di Petriano che io ho romanzato ma in un contesto storico che è quello dell'Urbino del 1502 e non solo, insomma anche gli anni prima dell'infanzia di Carletto nel quale in Urbino in quel periodo vivevano un sacco di personaggi famosi e importanti per la storia d'Italia, non solo. E quindi ho fatto in modo che Carletto incontrasse Raffaello Sanzio, incontrasse Leonardo da Vinci, appunto Cesare Borgia e tutti i personaggi storici che in quel momento vivevano in un Urbino che era il centro della cultura italiana ed europea. Quindi nasce così e questa è l'origine di Carletto da Petriano. Il libro si trova in tutte le librerie ovviamente, in tutti i canali dell'ebook e-commerce, quindi IBS, Amazon, eccetera, eccetera. Poi ci tenevo a ringraziare Ludovica Brugnoni che è la ragazza, una studentessa della scuola Manzoni dove io insegno che ha fatto le illustrazioni del mio libro, ha avuto i capitoli nei quali io volevo fare le illustrazioni e poi ha interpretato nel migliore dei modi le ricostruzioni storiche che io faccio all'interno del libro. Quindi grazie e soprattutto mi ha trasmesso anche molto entusiasmo per anche riuscire a finire un lavoro così lungo come la pubblicazione di un romanzo storico.